In questa riflessione vorrei affrontare un argomento che secondo me è importante ed è la ragionevolezza del cristianesimo e conclude la prima riflessione intitolata Pseudosofismi tra credenti e laicisti scontato che secondo me da un punto di vista razionale si può giustificare l'ipotesi di Dio attraverso le riflessioni che arrivano dagli luministi da Pascal, da Cartesio e da Kant a questo punto io vorrei riflettere sul messaggio cristiano Per me, e qui ci troviamo addirittura secondo me ad una dimostrazione a primo livello tipicamente carileiana se noi nel nostro mondo mettessimo in pratica i suggerimenti che ci dà la Bibbia non naturalmente prendendo delle frasette così isolate ma nella sua complessità perché la Bibbia è un'opera didattica che culmina con il Vangelo di Cristo che è il cuore di tutta la Bibbia noi vivremo meglio mi sono arrivati dei messaggi questa volta non come quei messaggi di Mr. X ma più educati molto corretti con tanto di nome e cognome e io le voglio considerare subito ricordando però sempre che potete andare a vedere a proposito della dimostrazione non della dimostrazione di Dio ma dell'ipotesi su Dio questi tre indirizzi e volendo potete anche aggiungere accanto a Pascal anche quello di Cartesio mi dice questo signore converrai che ci sono più argomenti che possono provare a dimostrare la sua inesistenza cioè l'inesistenza di Dio perché Dio avrebbe popolato solo la Terra e lasciato tanti altri pianeti della classe invivibili forse la Terra era nel posto eccetera eccetera ora voi mi capite caro signore ma questo non è un argomento per dimostrare l'esistenza di Dio innanzitutto se lei va a vedere nell'ecclesiaste ma certo se noi non andiamo a leggere la Bibbia e non leggiamo le risposte ai nostri possibili dubbi è evidente che i dubbi rimangono ma nell'ecclesiaste c'è scritto egli cioè Dio ha fatto bene ogni cosa su tempo ma egli ha messo la nozione dell'eternità nel loro cuore nel cuore degli uomini senza però che gli uomini possano capire l'opera compiuta da Dio dal principio alla fine ed è una cosa più che mai logica ritorno a riproporre il pensiero di Cusano io spero il più presto possibile di proporre una lezione di Cusano su Cusano nelle mie briciole nella mia rubrica briciole di filosofia e Cusano tra le tante dimostrazioni ne propongo solamente una perché altrimenti la registrazione diventa troppo lunga ci dà questa come può un segmento comprendere una retta a presente avete presente cos'è il segmento il segmento può stare può far stare dentro di sé una retta noi siamo dei segmenti possiamo comprendere Dio innanzitutto non è detto che non ci siano altri pianeti vivibili non è detto che non ci siano altri popoli che non ci sia un'altra creazione o prima della nostra o dopo la nostra o parallela alla nostra questa non è una ragione per dimostrare che Dio non esiste la chiesa dice che la terra è stata creata se mila anni fa dice diceva secoli e secoli fa ma la chiesa più che la chiesa si faccia bene attenzione una certa cultura e su questo bisognerebbe riflettere di nuovo una certa cultura una certa corrente presente all'interno della chiesa quella corrente che si collega alla scolastica a un certo punto nella tradizione della chiesa della cultura della chiesa si volle interpretare la bibbia con delle filosofie e si utilizzò la filosofia platonica si utilizzò la filosofia aristotelica e quest'ultima ebbe a maggiore successo però senza togliere nulla alla grandezza di Tommaso di San Tommaso d'Aquino che fu l'autore di questa grande opera si passò facilmente all'errore di scambiare Aristotele per la bibbia quindi tanti errori si ebbero a commettere proprio perché si ebbe a confondere la sapienza greca cui bisogna riconoscere la grandezza con il messaggio biblico in modo particolare si fece l'errore di pensare che la bibbia fosse un testo di scienza non è così la bibbia ci dice quali devono essere i rapporti tra noi e Dio e i rapporti tra gli uomini perché la stessa bibbia chiarisce questo pensiero però bisogna leggerla ai tuoi occhi dice la bibbia salmo 89 4 mille anni sono come il giorno di ieri che è passato come un turno di vegna della notte un turno di vegna della notte dura tre ore mille anni quindi le giornate bibliche non si possono prendere alla lettera perché è la stessa bibbia che ci dice il giorno per Dio non è inteso come inteso per noi ma già noi come esseri creati dovessimo vivere su Saturno o su Marte o su Uranio o su Nettuno avremmo delle durate del giorno differenti Dio al di là del tempo Dio al di là dello spazio là ci fu un'interpretazione errata dei testi biblici quando i testi biblici loro stessi ci dicono attenzione mille anni agli occhi di Dio corrispondono a tre ore ma anche qui non prendiamolo alla lettera allora dobbiamo metterci a fare i calcoli dobbiamo dire allora se sono tre ore non è così questo è semplicemente un esempio un iperbolico per dirci non prendere le tue misure sullo stesso metro delle misure di Dio perché come ho detto altre volte c'è il rischio di misurare i litri con i metri qui anche qui non trovo contraddizioni le cose terribili che accadono sulla terra dice questo signore malattie mentali come se io decidesse di far soffrire i miei figli sarei arrestato invece Dio va venerato dunque ancora anche qui vediamo di capire non c'è dubbio però direi di collegare questo argomento e questo pensiero anche al successivo perché sono strettamente legati la terra è stata creata da Dio quindi è di tutti perché c'è questa disparità dubito che qualcuno voglia dividere il suo patrimonio con te perché tutte queste cose ci sono non c'è dubbio sulla terra c'è l'ingiustizia c'è la violenza ma perché? perché le parole di Dio non sono ascoltate io mi sono limitato a prendere un pezzo dei proverbi 3,27,34 ma guardi che di questi passaggi ce ne sono non centinaia ce ne sono migliaia pensate cosa dice nella Bibbia attraverso i proverbi l'onnipotente non negare un beneficio a chi ne ha bisogno se è in tuo potere di farlo non dire al tuo prossimo va ripassatelo dallo domani se tu hai ciò che ti chiedi non tramare il male contro il tuo prossimo mentre egli dimora fiducioso presso di te non litigare senza motivo con nessuno se non ti ha fatto nulla di male non invidiare l'uomo violento e non imitare affatto la sua condotta perché il Signore ha in abominio il malvagio mentre la sua amicizia è per i giusti la maledizione del Signore sulla casa del malvagio mentre egli benedice la dimora dei giusti voi pensate che nel Vangelo poi le cose assumono una dimensione ancora più netta non soltanto devi amare gli amici ma devi amare anche i nemici se ti percuotono su una guancia porgi anche l'altra non ti dico solamente di non fare agli altri quello che non vorresti che gli altri facessero ma fai fai agli altri quello che vorresti che gli altri facessero a te e il Signore è molto severo nel giudizio finale avevo fame non mi hai dato da mangiare avevo sete non mi hai dato da bere ignudo non mi hai rivestito vattene via maledetto allora cosa intendo dire perché ho proposto questa riflessione vede caro Signore se lei ha un ha tre o quattro figli a questi quattro figli lei ha dato l'esempio ha detto loro che cosa devono fare quando hanno incominciato a diventare adolescenti si è raccomandato non seguire cattive compagnie non drogarti non ubriacarti fai il tuo dovere a scuola rispetta i tuoi superiori eccetera e questi qua quando arrivano alla maggiore età fanno tutto il contrario uno sobriaca si mette alla guida di un'automobile ammazza quattro o cinque persone finisce per trent'anni in carcere è colpa di Dio anzi no è colpa sua lei ha fatto il suo dovere nei confronti dei figli quando noi vediamo queste cose orribili ne posso indicare ne indico indico soltanto tre o quattro delle cose più orribili io penso alla prima guerra mondiale cristiani cattolici italiani contro cristiani cattolici austriaci unica tombe è colpa di Dio seconda guerra mondiale tedeschi di popolo cristiano porta avanti l'ecidio di ebrei di omosessuali di geovisti di zingari è colpa di Dio l'Europa cristiana Olanda e Regno Unito in testa e le potenze super democratiche hanno condotto sessanta milioni di africani in America un terzo è morto per strada trattati peggio degli animali quando Gesù non ha mai e neanche gli apostoli non hanno mai contestato la schiavitù sapete perché il messaggio cristiano non è un messaggio di carattere sociale politico però Paolo dice tu devi trattare il tuo schiavo come se fosse tuo fratello come se fosse un tuo figlio di fronte a quelle catombe che poi ha portato ad altre catombe perché negli Stati Uniti dell'America a causa di questa presenza sono nati degli sconti dei contrasti delle tensioni che portarono alla guerra di secessione la prima guerra combattuta con armi di distruzione è colpa di Dio le guerre di religione guerra dei trent'anni 1600 cristiani contro protestanti mazie è colpa di Dio ma Dio ha detto che cosa devono fare i cristiani si devono amare abbiamo mai letto negli atti degli apostoli o presso la vita degli apostoli con Cristo che ci sia stato che Cristo abbia raccomandato una reazione violenta ai suoi discepoli ma senza arrivare a cose di questo genere che sono terribili pensiamo alla nostra vita quotidiana quante famiglie rovinate per questioni di eredità e Gesù ci dice non si può servire contemporaneamente Dio e Mammona Mammona e Denaro quanta avidità siamo disposti a camminare sopra il nostro a pestare i nostri fratelli pur di avere successo i danni dei nostri vizi non parliamo se finiamo nel sesso malattie che sono nate a causa dei nostri vizi il fumo la droga l'alcol è colpa di Dio ma dico di più Dio ha dato all'uomo l'intelligenza se questa intelligenza invece di essere utilizzata per altri obiettivi venisse utilizzata a servizio dell'uomo voi veramente pensate che certe malattie rare non sarebbero già sconfite da tempo i governi di tutto il mondo investono patrimoni in spese militari se questo denaro fosse investito nella ricerca morirebbe qualcuno ancora di fame e questa è colpa di Dio le case farmaceutiche non portano avanti nessuna ricerca sulle malattie rare perché non conviene a loro preferiscono ricercare l'ennesimo cachet per i mal di testa perché la popolazione mondiale una percentuale altissima della popolazione mondiale soffre di mal di testa di emicrania ma cosa conviene a loro portare avanti delle ricerche sulle malattie rare un ammalato su centomila non avrebbero poi il modo di smerciare e il consumismo mentre c'è gente che muore l'ha insegnata Dio anche questa certo viene voglia di pensare a volte specialmente di fronte ai crimini nazisti ma non soltanto i crimini nazisti noi pensiamo sempre di nazismo ma i 60 milioni di africani portati in Africa come carro bestiame e un carro bestiame non ne parliamo mai stranamente pensando ai crimini nazisti tante volte la chiedono quando quei mascalzoni quei delinquenti buttavano nei formi creatori dei bambini vivi ma dove era Dio lì? giustamente il professor veronesi dice non posso credere in Dio quando ho visto tanti bambini soffrire ma dove è Dio lì? io una risposta ce l'ho non vorrei che però venisse accolta come una risposta d'effetto come si fa oggi Dio è nelle mani dei chirurghi Dio è nelle mani degli infermieri Dio opera lì non del medico che aspetta soltanto la fine del turno per scappare dell'infermiere che aspetta la fine del mese per incassare lo stipendio ma chi vede nel proprio ammalato il proprio fratello Dio è nei ricercatori che consumano la loro vita di cercare una soluzione ad una malattia io mi permetto di dire nel crimini nazisti che Dio era anche sulle baionette di quei tanti soldati che nello sbarco in Normandia hanno tentato e ci sono riusciti di fermare i crimini nazisti ma allora tu sei per la violenza Dio non ha parlato di violenza non ha parlato di violenza negli rapporti personali ma il poliziotto le forze dell'ordine devono togliere di mano il pugnale il coltello dall'omicida dice Dio certo bisogna fare il proprio dovere col cuore con amore anche se a volte si è costretti a usare violenza e per me lì c'è Dio ma non attribuiamo a Dio delle responsabilità che Dio non ha pensateci nel momento in cui dei genitori hanno sempre dato il buon esempio e poi i figli tradiscono i propri genitori non sono responsabili i genitori ma dico di più la stessa morte non è una realtà per quanto brutta chi è che non teme la morte? io almeno confesso di temerla anche se qualcuno ironicamente potrebbe dire ma sarebbe l'incontro finalmente col tuo Dio Gesù stesso nell'orto degli olivi suda sangue al pensiero della sua passione e entra in una profonda angoscia fino quasi alla disperazione Dio mio Dio mio perché mi ha abbandonato quindi la morte già di lì si vede che è una realtà contro la nostra stessa natura eppure se non ci fosse la morte certi soggetti Stalin Lenin Hitler Mao Ivan il terribile Gengis Khan oppure che ne so peggio ancora Caligola Nerone se li saremmo dovuti sorbire per l'eternità ma senza andare a queste vette il capufficio il caporeparto questi non sempre evidentemente ci sono delle persone ottime ma a volte ci sono dei piccoli tirannelli che fanno il bello e il cattivo tempo sulle spalle dei sottomessi e i poveri i poveri rimanrebbero sempre poveri i ricchi rimanrebbero sempre ricchi e invece c'è la morte quella che Totò definiva la livella ci mette tutti sullo stesso piano e così pure Parini nelle sue epistole ma pensate un momento solo a una poesia che ho appena commentato di Gozzano definita l'eguagliatrice delle fosse ricordati memento uomo ricordati uomo che se in polvere ti in polvere ritornerai e forse meditando su questa realtà forse l'uomo potrebbe essere meno arrogante meno presuntuoso che crede o non crede in Dio consapevole dei propri limiti quindi anche la morte ha una sua funzione e pur essendo una realtà contro natura ci mette nella condizione di capire che siamo veramente tutti fratelli non c'è diversità e diversità in questo mondo le poniamo noi con i nostri egoismi e con la nostra avidità o con le nostre passioni poi evidentemente per chi crede c'è una promessa la promessa della vita eterna ma non in questa dimensione della vita eterna almeno così Cristo ha promesso a chi lo avrebbe seguito ma anche qui non c'è nessuna prova perché Cristo per quanto possa essere ragionevole la fede potrebbe essere un ottimo e grandissimo filosofo e per dire che Cristo è la manifestazione di Dio è necessario un atto di fede non c'è nessuna dimostrazione a livello galileiano che possa sostenere questa verità e cosa prova l'esistenza di Dio la Bibbia un libro primo di incongruenzia di errori storici non ci creda non credete alle stupidaggine che vi dicono io di Freddy e i Biglina io ho affrontato alcuni argomenti perché sono infiniti che ha sfornato di Freddy nel suo libro le ragioni per cui non voglio essere cristiano andate a vedere gli indirizzi e andate anche a constatare le banalità le sciocchezze si pensa che siano vere perché non c'è la conoscenza dei testi sacri è evidente che io la banalità la posso proferire in 15 secondi chi però deve contestare questa banalità deve fare un approfondimento storico filosofico teologico linguistico e i 20 secondi che fanno effetto che sono i soliti slogan corrisponde poi una riflessione di mezz'ora per smontare lo slogan in modo adeguato non come un altro slogan io ho riflettuto su di Freddy ho incominciato a riflettere anche su certe affermazioni di Biglina che non stanno né in cero all'interno poi dice questo signore se regge alcuni scritti di storici vissuti a cavallo dell'anno zero come Tacito Svetogno Plinio capirai che era comune che poche persone eccetera eccetera come non ho ben capito il pensiero ma certamente questo signore intende dire Tacito Svetogno e Plinio sconfessano il cristianesimo ma non è assolutamente vero innanzitutto chiarisco l'anno zero non esiste dall'uno avanti Cristo si passa all'uno dopo Cristo questi non sono vissuti a cavallo dell'anno cosiddetto zero perché uno è nato nel 50 dopo Cristo l'altro nel 60 dopo Cristo l'altro nel 70 dopo Cristo di questi tre di storico c'è solamente Tacito Svetogno e Plinio non sono storici comunque questi tre autori hanno parlato dei cristiani parlando dei cristiani non hanno fatto altro che confermare quello che noi conosciamo del cristianesimo dagli atti degli apostoli e da altri libri che si rifanno a quei tempi al primo secolo dopo Cristo in riferimento a Tacito io vi rimando a questo indirizzo là io ho tradotto diversi passi delle opere di Tacito tra queste c'è anche l'incendio di Roma e la responsabilità che viene data da parte di Nerone ai cristiani per questo incendio e questi scritti di Tacito dimostrano che i cristiani non avevano nessuna responsabilità probabilmente probabilmente la responsabilità era dello stesso imperatore che ci furono delle persecuzioni terribili volute da Nerone quindi c'è la riconferma dell'innocenza dei cristiani e di queste persecuzioni per quanto riguarda Svetogno Svetogno era un erudito non era uno storico chi era l'erudito l'erudito era quello studioso che passava nelle biblioteche e negli archivi il suo tempo per organizzare e formulare libri opere enciclopediche non l'enciclopedia alla maniera illuminista l'enciclopedia tipicamente di Derot e di D'Alembert ma enciclopedia in cui si trattava non so tutti che ne so le opere gli autori di commedia tutti gli autori di tragedia tutti i filosofi tutti i re tutti i sovrani ora stranieri ora romani eccetera noi di Svetogno abbiamo solamente due frasi che si rifanno ai cristiani e sono queste iudeus impulsore sotto la guida di Cristo oltretutto questo Cresto viene storpiato perché si rifà al nome in greco non confonde Svetogno i cristiani con i giudei perché non c'era ancora stata questa differenziazione e i cristiani quindi venivano presi come una setta giudaica come una espressione delle tante espressioni presenti nel mondo ebraico i cristiani furono colpiti da supplizi un genere di uomini di una nuova e malefica superstizione ora di nuovo abbiamo la conferma la conferma delle persecuzioni che erano state portate avanti contro i cristiani perché si parla di superstizione perché si parla di una nuova e malefica superstizione perché i cristiani diventano oggetto di persecuzione la risposta è semplicissima perché i cristiani con Cristo portano una novella che è rivoluzionaria è la novella dell'amore Cristo ci dice che siamo tutti fratelli come potevano i romani pensare che gli aristocratici i patrizi potessero essere fratelli degli schiavi e la novella dell'amore non si fondava sulle armi Roma invece che portava ormai da tempo avanti una politica imperialista era fondava la sua forza sulle armi sulle sue regioni i cristiani non volevano neanche prendere le armi e non volevano sacrificare l'imperatore non volevano riconoscere l'imperatore come Dio ecco allora che vengono perseguitati ma ditemi che cosa c'è in queste due frasi che possa mettere in dubbio tutto quello che noi conosciamo sulla storia del cristianesimo infine Plinio Plinio vive al tempo di Traiano sia Plinio che Traiano sono due persone molto equilibrate Plinio è un dipendente sostanzialmente di Traiano la letteratura latina lo definisce giornalista un giornalista adesso non vi dico per quale motivo era definito giornalista c'è una lettera di Plinio rivolta indirizzata Traiano dove chiede spiegazioni cosa devo fare se i cristiani rinnegano il loro cristianesimo li devo ugualmente perseguitare e Traiano risponderà a questa lettera scrivendo che se un cristiano rinnega il suo credo non c'è motivo che venga perseguitato quindi anche sotto Traiano un imperatore molto equilibrato c'è la conferma che i cristiani erano dei fuori legge dovevano essere perseguitati poi sotto certi imperatori le persecuzioni diventano veramente micidiali sotto altri imperatori invece si lascia vivere e i cristiani possono permettersi di essere tali senza rischiare di essere uccisi quindi tacito Svetonio Plinio cosa ci dicono? confermano né più né meno quello che noi sappiamo della storia del cristianesimo ecco allora che bisognerebbe conoscere le cose in maniera più adeguata e qui ancora questo signore mi dice mi spiace probabilmente su una mia riflessione che valutava l'opera di certe religiosi di certe religiose ma non è convincente col suo discorso le suore si ricorda di mamma ebbe i soldi da donare ai poveri ma santo cielo di nuovo un ragionamento abbiate pazienza che non sta in piedi innanzitutto mamma ebbe non era una suora è stata scomunicata dalla chiesa non poteva neanche accostarsi i sacramenti ed è stata scomunicata dalla chiesa prima ancora che arrivasse la condanna civile ma anche ammettendo per assurdo che fosse stata una suora ci sono stati tantissime suore tanti religiosi tanti preti che sono state indegni della loro missione ma che vuol dire questo io continuo a riconfermare che nei miei anni della mia gioventù e della maturità ero ventenne ero trentenne ho conosciuto almeno una ventina di suore eccezionali 4-5 erano a livello di santità donne che si alzavano alle 5-6 del mattino preghiera poi tutto il giorno a pensare ai bambini terminato a pensare ai bambini andavano nelle case a fare l'iniezione un servizio incredibile ho conosciuto un sacerdote il cui nome adesso è in una strada del paese in cui vivevo che nel giro di 15 anni un paese industrializzato dove le mamme andavano a lavorare in fabbrica non sapevano dove mettere i bimbi ebbe a fondare ad aprire tre asili ebbe aprire una casa di riposo la vecchia casa di riposo di prima la fa diventare centro infermieristico le suore venivano in casa per ma non come oggi senza togliere nulla le infermiere che arrivano colpiscono e fugono la suora si fermava consigliava consolava c'è stata qualche suora qualche prete qualche frate indegno ma certamente ma attenzione se voi vi trovate di fronte a vostro figlio che va a scuola e che a un certo punto vi dice ma io perché devo studiare papà ci sono due o tre pierini che non fanno niente tutto il giorno non sono mai preparati non rispetto gli insegnanti eppure vanno sempre avanti io faccio come fanno i pierini ma voi cosa rispondete a questo vostro figlio ma ci sono solo i pierini in classe guarda che c'è anche Pippo e Topolino che hanno dieci e sono degli sgobboni guarda che c'è tutta un'altra serie di ragazzi che non sono sgobboni ma fanno il loro dovere e sono rispettosi ma tu devi provare proprio ad esempio i pierini questa è una scusa per giustificare le nostre malefatte ma anche perché a mio avviso la storia oggi quella storia insegnata proprio a scuola dei libri scolastici o quella di Piero Angela prende sempre in esame i peggiori se noi parliamo di papi noi prendiamo in esame i papi guerrafondai i papi concubinari i papi simoniaci i papi santi chi parla dei papi santi? sembra che quella storia non debba essere conosciuta io tante volte mi rifaccio alla storia nostra risorgimentale dell'Italia quante cose ci vengono dette su Mazzini, Garibaldi, Cavour Vittorio Emanuele II che poi con le loro decisioni per carità non voglio toccare il patriottismo di nessuno hanno determinato decine e decine di migliaia di morti tra Carbonerie, Giovanni Italia e tutto il resto l'espedizione dei mille chi dice qualcosa di Don Bosco? e guardate che a Torino non c'era solo Don Bosco ce n'erano tanti di Don Bosco che ebbero a salvare centinaia di migliaia di ragazzi dalla strada se io apro i libri di geografia o di storia sul Cile faccio solo esempi perché di questi esempi si possono fare a migliaia noi troviamo una storia di guerre intestine di guerre con i paesi vicini di tensioni sociali chi mi parla di padre urtado? questo prete nel giro di 15 anni tolse dalla strada un 800.000 ragazzi dando loro una famiglia non mettendoli semplicemente in orfanatrofie dando loro delle famiglie dei focolai domestici perché di questa storia nessuno ne parla? eppure la Bibbia ci dice non invidiare l'uomo violento e non imitare affatto la sua condotta carissimo non imitare il male ma il bene chi fa il bene da Dio chi fa il male non ha veduto Dio ecco perché io ho aperto un'altra rubrica sul mio sito dove ho messo in evidenza la vita di queste persone sono vite incomiabili guardate che nella storia oggi fa business padre Pio e madre Teresa di Calcutta ma di padre Pio e di madre Teresa di Calcutta ce ne sono a migliaia e non mi si venga a dire e concludo ma se vai là in San Giovanni Rotondo c'è solo commercio alberghi bar ristoranti negozi con i souvenir e cosa c'è di male? se io opro un bar o un ristorante per dei pellegrini cosa c'è di male? se uno vuole comprare un souvenir se uno va a Torino e vuole comprare i souvenir della Mola Antoniliana va tutto bene e nessuno si permette di dire niente se io vado là e voglio avere o vado a Lurdo vado a Fatima e voglio comprare un souvenir ecco che c'è subito quei moralisti ipocriti ma ipocriti pesantemente ipocriti che vogliono trovare a Lurdo perché? cosa c'è di male aprire un bar fattorie che sono state aperte lì nei dintorni per dar da mangiare e sfamare tutti gli ospiti dell'ospedale questo ci insegna che se noi viviamo e questo è l'esempio pratico una vita cristiana reale noi abbiamo anche una ricchezza economica noi stiamo anche bene se in questo mondo ci sono dei poveri è perché non si vive il cristianesimo vivere il cristianesimo non vuol dire mica vivere nell'indigenza poi ci può anche essere chi vuole essere perfetto vende tutto e vive nella povertà ma questa è una strada riservata a pochi usiamo le buone ricchezze ma addirittura il Vangelo arriva a dire usiamo le cattive ricchezze madre Teresa di Calcutta non si è mai interessata dove arrivavano le offerte qualcuno ebbe ad accusarla per questo cosa mi importa se con questo denaro posso fare del bene se questo denaro mi arriva da un mafioso ma è arrivato dal mafioso ma io lo utilizzo per far del bene almeno il mafioso con questo denaro non fa più del male l'importante è che non pretenda da me in cambio dei favori immorali ma poi ecco perciò in che cosa consiste la ragionevolezza del cristianesimo nel confutare tutte queste banalità questi luoghi comuni che ci fanno dubitare e poi mi dice questo signore giustamente giustamente mi dispiace mi occredo in quello che leggo e quello che si mostra coerente coraggio prova a leggere la vita di questa gente io seguo chi è coerente non vado a seguire il cristiano che non è coerente ma di cristiani coerenti ce ne sono state milioni perché non ci sono soltanto i santi canonizzati ci sono tanti santi che sono vissuti nella modestia non conosciuti nella propria famiglia e hanno fatto e hanno seminato tanto bene attorno a loro chi dunque segue per me la proposta cristiana riesce a realizzare in questo mondo una piccola o grande o media ma non è la misura importante non è importante la misura dipende poi dalla volontà di Dio una fetta di bontà cioè una fetta di questo mondo esce fuori dagli schemi dell'egoismo e dell'avidità grazie a tutti grazie a tutti